un saluto a voi che ci seguite su formobiles.info oggi vediamo la recensione di samsung galaxy a 5 vediamo subito un attimo come è strutturato perché non abbiamo visto l'unboxing il prodotto ci è arrivato direttamente così come lo vedete e fa parte della nuova serie di prodotti studiata da samsung dopo note 4 quindi un'estetica diversa un'estetica rivista per arrivare un po poi a quello che abbiamo visto con il form factor di galaxy s6 vedete un profilo laterale in materiale metallico nella nostra versione è colorato di nero come su note 4 vedete anche che è molto sensibile ai segni e lo vedete in questa cosa qui vedete che il colore lì è addirittura andato via però fa un pochino parte di quello che è questo tipo di lavorazione l'abbiamo vista un po' lacunosa anche e ve lo faccio vedere qui con la luce vedete tutti i segnetti che ci sono sulla lavorazione un po' lacunosa e con il bisogno di essere ancora un po' affinata soprattutto se il telefono non viene tenuto lo vedete qui con estrema cura vedete che è presente una texture simile a quella che abbiamo visto su note 4 sul vetro si vede molto di meno e quindi è molto più carina da vedere allora cominciamo a parlare scusatemi del telefono l'abbiamo usato per più di una settimana questo telefono qua se non vado errato mi pare una settimana corretta al momento una settimana piena al momento in cui sto girando la review ma poco importa sapete che di solito scusate sapete che di solito io testo i telefoni un po' più di una settimana ma con Galaxy A5 non ne ho sentito il bisogno non ne ho sentito il bisogno perché è un telefono che si è comportato sempre allo stesso modo cioè bene bisogna dire la verità che di questo telefono vi dico subito mi sentirete difficilmente dire che c'è qualcosa che non va a parte la batteria sono le 18.35 oggi ho finito di lavorare 5.30 e ho ripreso alle 15 e ho ancora il 27% vi dico anche che oggi ho usato il telefono poco l'ho usato questa mattina soltanto come hotspot a lavoro ho usato un po' di messaggistica ma veramente nulla di trascendentale le dimensioni sono i classici 139 x 69 per solo 6 mm e 7 di spessore la prima cosa che io ho percepito prendendo in mano questo telefono quando mi è arrivato è non pesa niente è una piuma è veramente incredibile il fatto che pesi così poco la parte posteriore sembra in materiale metallico e dovrebbe esserlo vedete che bella la simmetria con cui sono collocati flash led la camera e l'altoparlante di sistema che è qui una posizione un po' infelice secondo me anche se è rialzata grazie alla fotocamera che sporge e lo vedete quindi è rialzato e si sente lo stesso devo dirvi la verità è una posizione un pochino infelice e in alcune situazioni può capitare che l'audio venga un pochino un pochino meno potente parliamo un attimino di tutta quanta l'interfaccia e di come si presenta allora il software montato è Android 4.4 e l'interfaccia da Switch è ancora quella precedente lo vedete un pochino dal fatto aspettate che abbasso un po' la luminosità perché se no la camera vi impazzisce vi fa vedere i colori un pochino sfalsati vi dicevo vedete che l'interfaccia è la 4.4 tipica della 4.4 ed è di integra la vecchia TouchWiz il telefono ha 16 GB di memoria dispositivo e 2 GB di RAM che non danno nessun tipo di problema adesso vedrete le applicazioni aperte con cui io arrivo e vi dico la verità non hanno nessun tipo di problema e anzi non ho mai notato rallentamenti dovuti a per esempio il fatto di avere tante applicazioni aperte o la RAM saturata veramente molto stabile nelle performance vedete un pochino come è fatta l'interfaccia io vi volevo far vedere due cose la prima è che si può personalizzare anche qui come su Note l'intensità della vibrazione ed è molto comodo per evitare di avere magari se non vi piace il telefono che quando vibra è come se suonasse e un'altra cosa interessante che volevo mostrarvi nelle impostazioni è quella relativa e la vado a beccare qui nelle impostazioni rapide che andate voi a inserire le impostazioni relative al display avete visto che la luminosità è regolabile sui settori come nella vecchia interfaccia da Atreed ma abbiamo la non abbiamo la regolazione del tono display anzi possiamo soltanto decidere l'autoregolazione se la togliamo tendiamo ad avere un bianco un pochino più non verdino azzurrino e non possiamo andare a regolare i colori i colori li vedete io spero che dalla camera si veda i colori sono veramente sovrassaturi non sono non sono dei bei colori vi dico la verità a me non piacciono perché sono molto finti lo vedete anche da questo colore qui e non mi piacciono non mi piacciono molto ecco devo interrompere perché il mio papagallo ogni tanto fa le sue giri e purtroppo non stando zitta io sono costretto a girare la recensione col papagallo andiamo avanti per quanto riguarda appunto le impostazioni vi ho mostrato un pochino come si presenta non so le notizie in merito quando verrà aggiornato questo telefono ma l'interfaccia è ancora e ve lo faccio vedere qui la vecchia vedete la vecchia la vecchia touchwiz con il vecchio dialer se io vado a cercare la ricerca rapida in rubrica non è delle migliori vedete io ho scritto come per cercare accetto gara e devo andare a cercarla qui sui 9 suggerimenti che mi vengono dati non è la migliori ricerca rapida in rubrica c'è il registro ci sono i preferiti e la rubrica è la vecchia è quella che conosciamo sui vecchi telefoni Samsung insomma per quanto riguarda un attimo le applicazioni di sistema vi faccio un attimo vedere l'applicazione messaggistica sapete che dovrò oscurare per ovvi motivi di lavoro e di privacy vi faccio vedere anche la tastiera la tastiera è la classica di Samsung e si comporta molto bene ciao Andrea e ciao a voi di forum mobiles vedete che ha una buona correzione automatica non ai livelli per esempio di Windows Phone e Blackberry però funziona bene comodi i numeri in seconda funzione mi piace è veloce reattiva meglio di a me piace di più ve lo dico sinceramente la trovo più veloce c'è anche lo swipe e mi piace mi piace molto non funziona sempre ovviamente ma mi piace mi piace veramente tanto come funziona l'interfaccia è abbastanza veloce non è velocissima nel senso che ha il classico delay che Samsung ci ha abituato a posizionare nei suoi dispositivi per quanto riguarda la CPU ve la faccio vedere subito con CPU Z vi dico subito Stamp Dragon 410 ha 1.2 GHz e funziona veramente benissimo questo processore qui ha una un bilanciamento tra prestazioni e consumi che veramente si comporta bene e permette al telefono di essere attivo sempre nel browser ovunque anche nello switch tra le varie applicazioni l'unica cosa un po' lentina è l'apertura del multitasking che è un po' fastidiosa e quella della fotocamera che impiega un po' di tempo e causa degli sporadici rallentamenti proprio nell'apertura di questa vi dicevo che la CPU mi ha convinto molto perché è la chiave di lettura per la salvezza di questo telefono nel senso che questo telefono ha tra virgolette solo 2300 mAh di batteria eppure riesce ad arrivare fino alle 6 di sera quindi la CPU è ovviamente uno degli aspetti fondamentali io tra l'altro ho regolato uno sfondo nero sulla mia schermata home e questo probabilmente aiuta un pochino a ridurre i consumi del display perché se tenessi una schermata colorata sapete che il display essendo di tipo AMOLED avrebbe dei consumi più alti la diagonale 5 pollici la risoluzione full HD non ve l'avevo detto il display è sufficiente non è un display eccezionale allora la luminosità mi ha convinto molto è molto luminoso e se togliamo la luminosità manuale possiamo andare al massimo e vabbè sapete che la telecamera filtra sempre molto ma vi dico che la luminosità è molto molto buona invece per quanto riguarda la risoluzione e la matrice del display che secondo me è di tipo Pentile quindi non è una piena risoluzione HD non è così bella da vedere si vedono spesso i pixel sulle schermate bianche si vede bene la griglia sotto devo dire che il display poteva anche essere migliore visto il costo del telefono per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano io vi ho postato su Facebook e lo trovate sui social anzi e trovate anche sulla recensione in link qui in descrizione trovate un pochino come si è comportato il telefono nell'uso quotidiano e che tipo di feedback ci ha dato vi dico subito che la batteria ha più o meno sempre lo stesso consumo non ci sono tante ciance tante ciance da fare e se non sono le 6 sono le 7 di sera a seconda dell'uso vi ripeto oggi il telefono l'ho usato davvero poco perché ho dovuto lavorare molto e quindi non ho potuto stressarlo molto ho chiamato anche molto poco però vi dico subito che appunto il display il il processore è la salvezza di questo telefono io come sapete non uso risparmio energetico e vi comunico che qui è comunque presente risparmio energetico avanzato che è simile a quello che abbiamo visto su Note 4 è identico anzi e che vi permette di tirare avanti ancora un po' con funzioni primarie attive nel telefono quella che vedete qui tra l'altro è l'interfaccia TouchWiz non è l'interfaccia TouchWiz scusate mi sono mi sono impapperato è l'interfaccia di Nova Launcher perché questo perché sostanzialmente a me l'interfaccia che viene proposta di serie su questo telefono non mi piace non mi piace e la trovo molto giocattolosa molto poco piacevole e quindi l'ho sostituita con un'interfaccia un pochino più un pochino più dinamica un pochino più più carina vedete che possiamo andare con la con la con la manovra che avete visto a cambiare la il launcher del nostro dispositivo adesso viene caricato quello che è il launcher di sistema e vedete com'è con queste icone gigantesche le scritte per i povedenti che non possono essere modificate pochissimo spazio a disposizione e sinceramente si dice flipboard vi devo dire la verità a me non piace non piace per niente quindi ritorniamo a Nova Launcher che è la salvezza di Samsung nel senso che veramente utilizza io sui telefoni Samsung non riesco a utilizzare l'interfaccia TouchWiz non so per quale motivo in questo momento non mi abbia caricato Nova l'ha fatto? si ci ha messo un pochino a caricarla allora del display vi ho parlato vi faccio vedere un attimo le applicazioni di sistema la mail la parte mail è fatta benissimo mi piace tantissimo l'applicazione mail di Samsung che è si un po' grezzina non tanto curata però va bene questo ci siamo abituati con le vecchie applicazioni Samsung cioè non ha la tonalità estetica a cui siamo abituati sui nuovi telefoni però ha un una semplicità d'uso veramente alta vedete che possiamo scorrere rapidamente tutte le mail abbiamo la visione combinata di più caselle di posta e la gestione degli account è davvero semplicissima l'import della propria rubrica dei propri contatti e del proprio calendario avviene in modo semplicissimo quindi veramente molto 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 bene questa gestione della questa gestione della dei contatti e degli account da parte di Samsung io mi sono trovato mi sono trovato molto bene devo dire la verità qui va fatto è una delle applicazioni mail con cui mi trovo meglio ecco messaggistica ve l'ho fatta vedere non vi ho parlato delle chiamate come si comporta allora questo telefono è 4G ha una buona ricezione wifi siamo nel solito punto in cui il telefono prende poco e vedete che in alto prendo tra una e due tacche il 4G prende bene i cambi di cella sono buoni l'audio in chiamata è nella media non è straordinario la capsula non è una una cosa entusiasmante comunque il volume è ben regolabile si sente bene dall'altra parte ci sentono bene a patto di non tappare questo tastino che a volte ci può venire spontaneo tappare quando stiamo impugnando il telefono magari tenendolo appoggiato perché in mezzo c'è il cavo di ricarica perché lo stiamo caricando il volume dell'altoparlante di sistema non è tanto alto quindi io non l'ho trovato così alto avrei preferito un po' più di potenza perché quando siete in auto che parlate in viva voce sinceramente un po' di potenza in più non avrebbe fatto male e nella riproduzione dei file multimediali invece va abbastanza bene io vi faccio sentire un secondo una telefonata ricordiamo che viva voce volume è già al massimo giusto per farvi capire come funziona il volume ricordiamo che solamente ci avranno da utilizzare a quale è stato spedito il messaggio è possibile confermare o rifiutare la definizione tutti i chiamati effettuati da altri questo è il volume tre quarti no tre quarti sì tre quarti vedete non è potentissimo e questo si verifica anche quando state utilizzando o riproducendo file multimediali quindi da questo punto di vista mi sarei aspettato qualcosina in più cose importanti da segnalare non ne ho la fotocamera funziona bene è molto semplice l'interfaccia è tipica di samsung non vi segnalo cose particolari le impostazioni sono queste non sono molte si scatta 13 megapixel in 4 terzi oppure come noi preferiamo in 16 noni a 9.6 e altre impostazioni che non ce ne molte vanno semplicemente a permetterci di cambiare posizione di memoria e scegliere qualche leggera impostazione da personalizzazione i video massimo full hd 16 noni 30 fotogrammi al secondo e anche questi vengono abbastanza bene hanno il problema che manca la stabilizzazione ottica dell'immagine vi consiglio di andare a vedere sul sito li ho pubblicati così li vedete invece in notturna il telefono mi ha molto convinto e questa modalità notte mi piace davvero tanto 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 scatta ottime fotografie per una camera da 13 megapixel che si ha tanti megapixel però è anche una fotocamera da medio di gamma per quanto riguarda il browser sarò molto molto veloce sinceramente vi dico subito che il browser non va male anzi va molto bene questo qui è il browser di samsung avete la possibilità di installare e di usufruire di chrome direttamente dall'installazione del dispositivo perché è già preinstallato quindi così vedete molto veloce molto fluido non ci sono schermate bianche lo zoom è fluidissimo questo secondo me va meglio di chrome ed è uno dei migliori browser android nonostante tanti non si hanno d'accordo secondo me questo browser funziona veramente veramente bene e non c'è motivo poi scusate ero un po' fuori camera me la stavo godendo insomma questo 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 browser vedete che ha anche i tasti sono molto pratici io veramente ritengo questo browser uno dei più affidabili uno dei migliori in circolazione vediamo un attimo le conclusioni però questo telefono costa di listino 380 euro che sono veramente tantissimi per un telefono che alla fine è un medio di gamma ci sono telefoni che con 270 280 euro arrivano a prestazioni simili forse in qualche sistema operativo si riesce a spendere anche qualcosina di meno alla luce delle offerte attuali fortunatamente i samsung si svalutano abbastanza e questo qui lo trovate online intorno ai 300 euro che comunque secondo noi è un prezzo un filino sopra quelle che sono le sensazioni che trasmette il telefono perché si va bene si è un telefono equilibratissimo e non ho niente da dire a parte la batteria però devo anche dire che con 300 e fischia euro prima di comprare il galaxy a 5 forse nel mercato posso trovare qualche alternativa ancora migliore sempre rimanendo sul mercato dei telefoni venduti in Italia quindi non di venditori cinesi eccetera in ogni caso se lo trovate a un prezzo affidabile quindi sotto i 300 euro e volete un medio gamma siete affezionati a samsung e vi piace la linea di questo telefono volete anche una fotocamera che non vi lascia a piedi io un pensierino ce lo farei un saluto da FononBuyze.info grazie a tutti